Buon Dì! Oggi giornata un po' freddina, speravo piovesse, invece no, ha fatto tanto tanto vento e poi niente, tutto secco. Ma non è di questo che voglio parlare quest'oggi, voglio parlarvi della paciamatura. Che cos'è la paciamatura? La paciamatura è uno strato di materiale, organico o non organico, che si poggia sul terreno, sul suolo che volete coltivare oppure no, a seconda della funzione. Ma la funzione la vediamo dopo. Prima mi interessa parlarvi di che cosa può essere la paciamatura. Allora, ho detto, materiale organico potrebbe essere corteccia, quella che mi vendono in sacconi nei supermercati, di solito è corteccia di pino, potrebbe essere segatura, potrebbe essere cippato. Il cippato è praticamente la triturazione di rami e vari scarti delle potature. Potrebbero essere uno strato di foglie secche, tutto quello che riguarda il materiale organico. Anzi, l'altro giorno mi veniva in mente, potrebbero anche essere grigli di noce oppure i gusci delle nocciole. Stavo mangiando le ciliegie, avevo un sacco di noccioli e ho detto, questi qua, se triturati, perché ovviamente non li puoi mettere sul terreno, che poi magari potrebbero germogliarvi, però se presi a martellate, così potrebbero diventare paciamatura. Quindi è un concetto molto ampio. Potrebbe però anche essere materiale non organico, quindi ghiaia, vetro, i teli di plastica, che ultimamente vedo usati tantissimo e non mi piacciono per niente come concetto. E adesso vi spiego perché. Sostanzialmente la differenza sta nell'utilizzo che vogliamo fare di questa paciamatura e ci sono tantissime funzioni e utilizzi per la paciamatura, per questo strato di qualsiasi cosa che mettiamo sopra il terreno. Quali sono allora le funzioni della paciamatura e la sostanziale differenza tra la scelta di un materiale oppure di un altro a seconda dell'utilizzo che vogliamo farne? Una delle funzioni è quella di soffocare le erbe invasive, le erbacce diciamo, e questo viene fatto sempre più spesso con dei teli fatti appositamente per quello, teli paciamanti, che servono appunto per bloccare qualsiasi tipo di luce, aria, acqua e di conseguenza le piante che stanno sotto non ricevendo adeguata nutrizione, dopo un po' soffocano e muoiono. Non è immediata la cosa, però è più immediata che usare un materiale organico. Il problema è che non essendo un materiale organico questo tipo di teli non si biodegrada, però crea comunque uno spreco dal punto di vista della produzione della plastica di questi teli, i costi di produzione ovviamente, ma anche il fatto che, vero, non si biodegrada, ma si degrada col tempo. Dopo tre anni, se esposti ad un sole piuttosto forte, vanno cambiati, vanno completamente tolti, gettati via e rimessi nuovi. Quindi anche dal punto di vista economico non mi pare una furbata, oltre che da quello ambientale. Inoltre, se vogliamo, anche la pacciamatura organica fatta con materiale tipo la corteccia, se abbastanza spesso, in qualche modo limita il propagarsi dell'erbaccio, soprattutto limita l'attichimento dei semi che potrebbero arrivare con il vento. Ovvio che non è che mettiamo uno strato di due centimetri e speriamo che questi semi non riescano a raggiungere il terreno e attecchire, perché è troppo poco. Ce ne va uno strato bello spesso, dai 10 in su, quindi anche quello è un costo organico, è un costo, è materiale organico che prima o poi andrà a degradarsi con il tempo, però ecco, a livello ambientale mi sento di consigliarlo un pochino di più. Anche perché magari non è così effettivo come un telo di plastica, però già si fa qualcosa e ridurre il lavoro poi per disinfestare e togliere via quello che rimane di erbe è sicuramente minore che non farlo affatto. Quindi c'è un po' da valutare, ecco, l'equilibrio ambientale delle cose, gli sprechi, la sostenibilità dei materiali e quanto ne conviene per l'ambiente, secondo me. Fermi tutti, ho trovato su Amazon quello che chiamano materassino per erbacce in fibra naturale. È praticamente la versione organica del telo di tessuto non tessuto in plastica, fatto con fibre di lino, canapa o cocco. Buona sapersi, anche questo non è eterno, ma un'alternativa più ecologica della plastica. Un'altra funzione della pacciamatura è quella di limitare l'erosione del suolo. L'erosione del suolo avviene quando ci sono piogge molto forti, c'è il vento, ci sono passaggi continui di animali, persone, cose sopra il nostro terreno e dunque la superficie del nostro suolo viene erosa, perde uno strato di nutrimento superficiale molto importante, ma soprattutto perde la struttura superficiale del terreno, che è quella in cui si aggrappano le piante per vivere. Quindi, con la pacciamatura, che è uno strato, se vogliamo, protettivo, si riesce ad evitare questa erosione. Questa può essere fatta, anzi conviene farla con materiale organico, perché se vogliamo proteggere il suolo per poi nutrire delle piante, è ovvio che non andiamo a soffocare la pianta o a togliere qualsiasi sostanza di vita con un telo pacciamante, ma utilizzeremo un materiale organico, che va bene perché comunque l'acqua continua a penetrare dentro il terreno, ma appunto limita l'erosione. E parlando appunto di acqua, un'altra funzione della pacciamatura è quella di mantenere il suolo umido più a lungo rispetto che il suolo scoperto, perché se l'acqua riesce a penetrare attraverso la pacciamatura, attraverso la corteccia o la segatura o qualsiasi cosa mettete, il substrato sotto la pacciamatura rimarrà più umido e fresco rispetto a quello scoperto. L'acqua non evaporerà così in fretta e sarà disponibile alle piante più a lungo. Di conseguenza abbiamo un risparmio d'acqua anche notevole nelle irrigazioni e questa è una cosa sostanziale soprattutto per il clima caldo italiano. Rimanendo quest'acqua comunque a disposizione delle radici più a lungo, crea anche un microclima e quindi abbiamo una quarta funzione della pacciamatura che è quella di mantenere il suolo anche più fresco, più a lungo. E questo vuol dire che le piante non subiscono degli stress di temperatura, perché sappiamo che anche le piante subiscono degli stress. se fa troppo caldo o troppo freddo, anche se c'è acqua, la radice o la pianta stessa soffre dal punto di vista climatico, quindi mantenere questo strato umidiccio sotto sicuramente aiuta a quel microclima che fa stare la pianta meglio. Inoltre la pacciamatura può anche, se vogliamo, avere una funzione estetica, ora non solo visiva, per esempio, vabbè, c'è chi la usa per coprire il tubo gocciolante dell'irrigazione, quindi si copre con un po' di corteccia, un po' di lapillo vulcanico, quello che volete. L'acqua comunque penetra dentro e voi avete un'aiuola omogenea. Ma stavo pensando anche al fatto che comunque con questo strato si evita che tutte le goccioline di fango, quando piove e se aveste, per esempio, un'aiuola vicino ad un muro, vadano a schizzare contro le piante, contro il muro, quindi si mantiene tutto un po' più ordinato e pulito, insomma. È una cosa a cui nessuno pensa, o quasi, quando si parla di pacciamatura, però può essere utile. Qui apro una parentesi, forse non l'unica di questo video, sulla corteccia di pino, gli aghi di pino usati come pacciamante, perché so che me lo chiederete. I prodotti del pino o di altre conifere possono acidificare il suolo se usate come pacciamante? Dunque, le conifere hanno in effetti un valore di pH acido all'inizio, ma man mano che il materiale si decompone, il valore del pH si alza perdendo gradualmente acidità. Per ovviare ad ogni problema, si raccomanda comunque di acquistare corteccia di qualità qualificata. Ultima, ma non ultima, la funzione di nutrire il terreno. E qui parliamo esclusivamente della pacciamatura organica, perché ovvio, se mettiamo un telo di plastica e ci aspettiamo di nutrire il terreno con quello, beh, no, inquineremo soltanto man mano che si sfascia, ma non andrà a decomporsi e a riunirsi, diciamo, al terriccio sottostante. Quello che succede invece con il materiale organico, che sia corteccia, foglie, qualsiasi cosa di organico, prima o poi andrà a decomporsi, quindi lo strato man mano si assottiglierà e andrà ad unirsi al terreno, creando appunto dei nuovi nutrienti per le nostre piante. Occhio, non è una cosa che avviene in pochi mesi, non è che se compriamo un sacco di corteccia di pino, dopo due mesi questa sparisce perché è diventata parte dell'aiuola. Dura un bel po' perché appunto la corteccia dura. Se utilizziamo qualcosa di più fine, tipo le foglie, magari durerà un po' meno, a seconda del tipo di materiale che utilizziamo, però sappiamo che prima o poi andrà anche quello rimesso. Quindi sì, sarà una spesa che prima o poi andrà rifatta, la corteccia non è eterna, il cippato non è eterno, però in qualche modo va comunque ad integrare i nutrimenti della pianta, non sparisce del tutto, ecco, va a nutrire le piante. E con questo direi che è tutto, se ci sono altre funzioni che magari mi sono persa fatemelo sapere, spero che questo video vi sia stato utile. Ciao e alla prossima!